come depositare cripto e come depositare euro su bing x quindi come iniziare diciamo a spostare dei fondi su bing x in modo che poi dopo cominciamo a fare trading fare copy trading insomma fare tutte le operazioni che vogliamo su questo exchange ok ragazzi quindi tutorial veramente pratico oggi abbiamo già fatto una serie di video qua su bing x voglio portare proprio dei tutorial al passo passo abbiamo fatto il tutorial su come prelevare è stato molto apprezzato adesso facciamo il tutorial su come depositare perché magari ci sono persone che si iscrivono poi dopo non capiscono come depositare adesso ve lo spiego ok quindi per tutti i novizi del settore prima di cominciare vi ricordo anche che c'è una super promo ragazzi promo pazzesca su bing x deposita e vinci 7100 usdt trial fund come funziona praticamente in base a quanto depositate ragazzi per i nuovi iscritti al mio link avete anche il 10 per cento di sconto sulle trading via vita e praticamente potete avere dei bonus pazzeschi bonus che potete usare come volete sui futures eccetera 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 quindi 500 di deposito 100 bonus 1000 di deposito solo col deposito ragazzi a voi lo depositate depositate tenete due giorni e vi si sblocca il bonus una bomba quindi depositate 500 vi da 100 1000 vi da 200 3300 5500 10.000 mille e 50.000 5.000 e ragazzi sono accumulabili quindi se depositate 50.000 ecco che nell'arco di 20 giorni fino a 6 settembre ragazzi dura potete prendervi 7.100 bonus da usare quindi che ne so depositate 50.000 li lasciate di due giorni poi tradate con i bonus basta ragazzi i 50.000 non correte nessun rischio a depositarli un paio di giorni ok ragazzi e adesso andiamo a vedere come depositare oggettivamente qua su bing x avete tre modi avete il deposito bancario la carta che è il più veloce e il peer to peer trading andiamo a vedere la carta allora innanzitutto per sbloccare tutti i metodi pagamento se mettete il minimo 8 non non riuscite a farlo con la carta mettete che ne so che depositate almeno 100 oppure come il bonus lì 500 500 euro di bonus per sbloccare il bonus ecco che andate a fare buy e potete scegliere carta di credito peer to peer che lo sconsiglio ragazzi il peer to peer trading sono persone terze che vi vendono le cose sempre meglio fare direttamente con bing x oppure deposito bancario oppure potete fare google pay però vedete già con google pay ci sono un sacco di fee vedete il tasso è 0.93 col carta di credito è 0.89 quindi ricevete più usdt e poi c'è moon pay wallet mercuri tutti questi servizi che potete usare on ramp sepa e vedete vi da anche il tempo di arrivo 0 15 minuti questo qui è istantaneo praticamente e praticamente andate qua con la carta linkate la carta ok quindi andate a mettere il nome track tree e la data di scadenza e il cvv e andate a fare pay ok e una volta fatto questo autorizzato potete dopo che avete autorizzato bing x dopo potete fare tutti i depositi che volete ok poi se torniamo indietro ok torniamo qua quick buy sempre potete fare andiamo a vedere rimettiamo che ne so facciamo 80 così se avete google pay usate google pay se no peer to peer vedete peer to peer scegliete voi quale usare e poi procedete per esempio questo qui zen se andiamo a fare buy lui ti dice guardate che vai su una piattaforma terza allora tu accetti vai qua e fai questo questo cosa qua però devi chattare con qualcuno insomma è un casino io il mio consiglio è sempre fate le cose semplici con la carta ok con la carta oppure terzo il terzo modo è depositare direttamente con un deposito bancario quindi minimo 40 che ne so mettiamo 40 vedete sepa ci vuole 1 2 giorni 0 fi andate a confermare fate continua e prima di tutto dovete confermare la vostra identità ok per confermare la vostra identità praticamente cosa vi fa compilare questo modulo andiamo a vedere vi mettete nome cognome data di nascita e nazionalità poi andate a mettere il vostro indirizzo vi fa fare un questionario e in un minuto poi fate continua e accettate una volta che è stata verificata la vostra identità mi raccomando date lo stesso indirizzo che avete messo quando avete fatto il kyc ok dopo vi si sblocca e praticamente vi da un IBAN dopo sul quale voi dovete depositare e fare il bonifico ok molto molto semplice quindi così è come si deposita su bing x ragazzi io vi spero che questo tutorial vi sia piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale vi ricordo la super promo fino a 7100 usdt bonus ragazzi quindi basta che depositate e vi vengono sbloccati i bonus ok ragazzi in base a quanto depositate potete anche depositare prima 500 e poi vi arriva il bonus da 100 poi dopo avete altri 20 giorni magari che ne so è la prima volta che fate una roba del genere così per fidarvi depositate 500 vedete che tutto depositate 500 vi sblocca il bonus da 100 ecco che poi dopo andate a depositare il resto ok fate un po' come volete poi i bonus ragazzi li dovete usare entro 14 giorni ok quindi grazie come sempre per vedere i miei video noi ci vediamo al prossimo video grazie